Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada. In A1 possibili disagi per presenza di personale su strada tra Chiusi e Valdichiana verso il sud, tra Arezzo e Monte San Savino e carreggiata opposta. Per la mobilità in A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 un chilometro di code a tratti per lavori in direzione Genova tra B12 di Ramazione Livorno e Pisa Centro. In FIPD restano code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Con lo sguardo al traffico urbano di Firenze segnaliamo restringimento di carreggiata e traffico rallentato per incidente su Viale Etruria. E prima di salutarci per il traffico ferroviario si registrano ritardi, cancellazioni o modifiche alla circolazione per sciopero del personale. Tutti i provvedimenti e i treni interessati sui nostri canali social. Buonasera, Sintoscanale Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!